questa è la line up del New York Proxy terrà questo fine settimana a New York per l'appunto e devo dire che non conosco praticamente nessun bodybuilder a parte Max Charles che abbiamo visto miliardi di volte gareggiare negli ultimi anni una B2E del New York Pro è Tonio Burton che abbiamo visto gareggiare molto l'anno scorso ha fatto davvero una buona impressione secondo me un buon bodybuilder sul versante estetico piccolo tra virgolette però ottima rotondità, ottimo effetto 3D, buona definizione in generale l'anno scorso nelle gare che ho visto mi è piaciuto molto quindi mi aspetto che faccia bene in questa gara poi sicuramente come ogni anno emergerà qualche nome in questo periodo pre-estivo e anche estivo di gare che sarà interessante vedere tipo l'anno scorso Tonio Burton non lo conoscevo poi ha gareggiato molto, ho imparato ad apprezzarlo quindi per quanto la line up sia sconosciuta a me per lo più credo che ci sia sicuramente qualche bel nome qualche nome abbastanza dimenticabile però ci sarà qualche sorpresa chiaramente New York Pro non è più il Night of Champions di 20 anni fa o 30 anni fa vive un po' del blasone più che dell'importanza perché come gara ormai è una gara, non dico qualunque però ha la stessa altezza di tante altre gare che ci sono negli Stati Uniti quindi vedremo un po' questo fin stima del New York Pro parlando del Mr. Dominique in carica Harry Chupan che ha deciso di pubblicare più aggiornamenti dopo essere sparito è andato in letargo per tutto l'inverno praticamente questa Mos Muscular è abbastanza interessante anche se mi sembra che la vita sia abbastanza larga chiaramente in off-season è abbastanza definita per essere in off-season mi sembra troppo grosso di tronco rispetto alle braccia che sono un po' troppo piccole soprattutto di avambracci e di tricipiti però comunque direi una condizione buona per essere così lontani dal Mr. Olympia non è definito la gara però è abbastanza definito è bello pieno di petto vita un po' troppo larga secondo me e anche in questa Crab si vede un po' quali sono i suoi punti deboli i tricipiti molto molto corti gli avambracci così così sono curioso di vedere cosa succederà al Mr. Olympia quest'anno con Derek Lansford che ormai è in rampa di lancio cioè non si parla d'altro io personalmente adoro Derek mi piace davvero tantissimo vedremo se riuscirà a spuntarla contro la di Chupan che non penso sarà un Mr. Olympia dominante per tanti anni tipo un Philit o gente così anche perché negli ultimi anni ci hanno ormai abituati che ogni anno o quasi si cambia Mr. Olympia dal 2017 ad oggi ne abbiamo cambiati almeno 5 se non sbaglio passando a un altro che credo vorrebbe diventare Mr. Olympia ma Classic Physique Ramondino ha pubblicato su YouTube un video di allenamento con anche una specie di aggiornamento fisico col Coach che chiaramente guarda con aria sospetta da dietro non capito mai perché i coach facciano queste cose qui sembrano cose fatte apposta c'è sempre il bodybuilder e il coach dietro con lo sguardo magnetico e cattivo che guarda i progressi del proprio bodybuilder di riferimento comunque Ramon è un altro di quei bodybuilder che credo abbia problemi a diventare grasso in off-season mi sembra uno che ha proprio la genetica dalla sua parte per quanto riguarda l'essere magro tutto l'anno in pratica poi chiaramente i Classic Physique non è che debbano fare masse esagerate anche perché poi devono rientrare in un peso non sono come gli Open che non hanno una categoria di peso quindi possono diventare grassi quanto vogliono poi al massimo sforano e non sono definiti però un Classic Physique deve fare sicuramente più attenzione ma Ramon credo che di suo sia portato per essere magro ottime braccia come sempre avambracci disumani tra i migliori che abbia mai visto in vita mia ottimo fisico estetico chiaramente vincitore del Classic Physique Arnold Classic vedremo cosa farà contro Chris Palmstad al Mr. Olympia Dulcis in fundo un aggiornamento di Andrea Presti che è come Ramondino è uno di quelli che secondo me ha più problemi a ingrassare rispetto a restare magro secondo me è un aspetto positivo non so se a lui crei problemi questa cosa o se abbia problemi a mangiare a seguire una dieta troppo ipercalorica però non credo il discorso è che secondo me è positivo il fatto che resti relativamente magro relativamente definito anche in off-season questa è un'ottima most muscular non so se si fosse appena allenato e quindi non avesse un effetto pump davvero secondo me in ottima condizione chiaramente anche lui come Harry Chupan ha i tricipiti, gli avambracci come punti deboli sono curioso di vederlo sul palco quest'anno sono curioso di vedere le gambe se si è riuscito a migliorarle un po' rispetto all'anno scorso dovrebbe gareggiare in Portogallo ma immagino che nel caso non si qualificasse già in Portogallo farà altre gare però lo vedo davvero molto molto definito molto in condizione la definizione è il suo punto forte con alcune pose soprattutto il side chest devo dire quindi sono curioso di vederlo sul palco sono curioso di vedere cosa combinerà contando anche che non penso che farà tutte le gare che ha fatto l'anno scorso perché quest'anno al Ministero Libia ci vai solo se vinci una gara quindi non penso che farà tutte le gare che ha fatto l'anno scorso magari con l'idea anche di accumulare punti perché ci sta anche a fare questi ragionamenti faccio punti così se non mi qualifico con una vittoria magari ci arrivo con i punti e dovendo centrare una vittoria penso che sceglierà con oculatezza le gare da fare non so se andrà negli Stati Uniti anche quest'anno l'anno scorso ha fatto due o tre gare negli Stati Uniti poi va vinto quella in Portogallo quindi non lo so se sapete cosa dove fare scrivetelo nei commenti io so per certo solo la gara di Portogallo però magari c'è altro che mi è sfuggito buona? grazie a tutti grazie a tutti